Grazie a tutti. E' un po' di persone, quindi potrebbe essere utile da parecchi punti di vista essere presenti. Io lascio la parola adesso alle nostre istituzioni che ci hanno accompagnato in questo progetto. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. E' un po' di persone che vorrei presentare. Diversità di giochi e sport tradizionali che sono radicati nelle comunità e nei territori della nostra penisola italiana. Cioè, a partire da Verona, dove poi magari Giuseppe e Paolo potranno meglio di me anche raccontare in due parole questa storia, che è una bellissima storia, che a partire da un piccolo gruppo di giocatori, poco a poco è cresciuta una consapevolezza dell'importanza del gioco, che va al di là, diciamo, di quello che in maniera un po' superficiale il gioco sembra. In realtà queste sono attività che hanno un grandissimo valore sociale per la salute delle persone, culturale. Noi stiamo lavorando proprio in questa prospettiva, diciamo, di espansione. Cioè, il gioco nell'ambiente, nei luoghi in cui nasce, si sviluppa e si trasmette di generazione in generazione, ha un valore che non è soltanto un valore, diciamo, di attività ludica, come si potrebbe, come spesso superficialmente si pensa, ma è un patrimonio. Ecco, in questo processo, molti anni fa, Aga ha iniziato questo viaggio, abbiamo anche un libro che si chiama proprio Viaggio attraverso l'Italia che gioca, nell'idea di non fermarsi soltanto al proprio gioco, il gioco dello scianco, della lippa, ma di conoscere e mettere in comunicazione fra loro, attraverso Tocca T, festival che molti amici di Aga conoscono, altri invece, speriamo che lo conosceranno presto, potranno venire a Verona, le comunità ludiche. Già questo concetto di comunità ludica è una cosa interessante sulla quale anche interrogarsi. Che cos'è una comunità ludica? Una comunità ludica non è soltanto il gruppo dei giocatori, ma sono anche tutto quel contesto culturale dentro il quale il gioco nasce e del quale ha bisogno per trasmettersi al futuro. Allora, l'idea di Tocca T è di creare un luogo e un appuntamento annuale in cui, in qualche modo, far esplodere questo patrimonio ludico, una grande festa, un grande momento di accoglienza e di rete. Tocca T però non è soltanto il festival, è appunto questo viaggio che oggi ci ha portato fin qui, di scoperta e di raccolta di racconti delle comunità. Noi siamo partiti, diciamo, nel mio caso, sono arrivata tre anni fa e ho scoperto questa grande comunità di comunità, l'ho scoperta nel festival, però poi ci siamo resi conto che era un grandissimo patrimonio quello proprio dei territori in rete, delle comunità in rete. E quindi, ecco, nasce da questo riconoscimento di un valore, di quello che voi portate avanti nei vostri territori al quotidiano, trasmettendo questo patrimonio, lavorando con le vostre comunità a livello locale, l'idea di aprirsi a questo viaggio e di andare a conoscere, a studiare localmente. Quindi quello che abbiamo iniziato insieme è proprio un dialogo ed è anche una raccolta dei vostri racconti. La cosa più straordinaria per noi che ci siamo mossi verso di voi è stato proprio come avete saputo accoglierci. Allora, certo, dietro c'è questa storia che sto cercando di evocare, ma c'è anche una capacità di queste comunità ludiche ad accogliere, a creare un clima di festa, di condivisione. E diciamo che lavorando in questo modo, anche il tema della ricerca e dello studio assume un altro valore, perché nasce proprio in un clima di dialogo e di condivisione, che è quello che abbiamo conosciuto sui territori. Ora, alcuni anni fa, la regione Lombardia, e qui appunto voi si presenteranno Renata Meazza e Agostina Lavagnino, hanno iniziato a lavorare fortemente con le comunità per la salvaguardia di quello che le istituzioni chiamano patrimonio culturale immateriale. Sono i patrimoni vivi dei nostri territori, quindi c'è un po' una rivoluzione rispetto a quello che un tempo si considerava il patrimonio, patrimonio fatto di oggetti, fatto di luoghi, senza considerare quanto le persone, i gruppi e le comunità sono invece fondamentali per la continuità e per la trasmissione di questo patrimonio, con i loro valori. Ecco, nasce proprio da una presa di consapevolezza dell'importanza e dell'interesse di questo patrimonio, questa convenzione. Questa convenzione che ha cambiato molte cose, sia nel nostro lavoro, io sono antropologa, come sapete, perché ci siamo già conosciuti, e prima lavoravo in un modo molto diverso da quello che è il modo di lavorare oggi. Cioè, si andava sul territorio, si facevano delle interviste, si documentava, ma il dialogo con la comunità, il protagonista della comunità, non era così centrale come lo è diventato in questi ultimi anni. Quindi questa convenzione ci ha messo in viaggio anche da un punto di vista proprio del modo di lavorare, del nostro modo di considerare e di lavorare con le comunità. con le comunità, con i gruppi e con gli individui. Quindi in un dialogo molto forte, e questa convenzione ha anche trasformato le politiche. Perché voi sapete che ogni, voglio dire, ogni attività di ricerca, di studio, ha dietro delle politiche. Le politiche sono fondamentali, le politiche sono fondamentali anche per la trasmissione dei patrimoni culturali. Se il contesto politico e legislativo non è favorevole, chiaramente ci sono delle mancanze, dei problemi, e spesso anche delle pratiche che hanno un grande valore culturale possono proprio venire a morire per mancanza, diciamo, di un contesto favorevole alla trasmissione. Pensiamo al rapporto con gli spazi. Certi spazi, come le piazze e le strade, Toccatì si chiama appunto Festival Internazionale dei Giochi in strada, sono a un certo punto venuti a mancare. Bisogna prendere delle iniziative per recuperare questi spazi, fare in modo che le persone possano poi concretamente essere riconosciuti per quello che valgono nella pratica culturale che stanno portando avanti. E quindi ecco che la regione Lombardia ha preso molto sul serio questa convenzione e come vi racconteranno Renata Meazza e Agostina hanno trasformato progressivamente le politiche culturali regionali portando fortemente, favorendo il dialogo con le comunità. Il gioco è un tema nuovo, anche per l'inventario, perché da questa assunzione, diciamo, della convenzione è nata una legge regionale, questa legge regionale ha prodotto una serie di progetti e di possibilità che prima non c'erano, tra i quali anche l'inventario di cui abbiamo parlato durante i nostri incontri, che tra l'altro si è dotato di uno strumento particolare che è una piattaforma online e questa cosa anche del web è molto importante perché tutti questi materiali che noi abbiamo raccolto, stiamo raccogliendo e sui quali continueremo a lavorare con voi saranno accessibili, saranno riconoscibili e in qualche modo diventeranno un patrimonio anche per le istituzioni, oggi lo sono per le comunità e per la società, ma c'è un riconoscimento dell'istituzione sul valore di queste pratiche. Quindi ecco, questo inventario online è una novità sicuramente anche nel panorama italiano, prevede una condivisione, voi sapete che il web prevede un accesso, una condivisione, una possibilità di essere continuamente aggiornato, quindi è anch'esso uno strumento vivo, in movimento, così come vivi e in movimento sono gli elementi del patrimonio di cui voi siete i portatori. Quindi ecco, questa grande novità è anche una novità di metodologie di lavoro perché sono schede molto sintetiche, voi avete visto, molti di voi hanno già cominciato a lavorarci su questa scheda, c'è comunque la possibilità di produrre un proprio racconto, cioè ognuno anche scegliendo delle parole chiave, dei termini, un modo di raccontare la storia. Quindi è un luogo di condivisione di racconti che permette, attraverso le immagini, attraverso i video, attraverso la scelta anche delle parole, di non essere semplicemente rappresentati dallo studioso, ma di essere proprio molto presenti con la propria storia, anche su questa piattaforma. Quindi stiamo anche, diciamo, lavorando in una visione ampia e a lungo termine, voi sapete quanto il web è anche importante per i giovani, per i ragazzi, ecco, il fatto di avere questi elementi sulla piattaforma ha un suo valore proprio sociale forte. Naturalmente la piattaforma e il web sono solo uno strumento, quello che poi realmente conta è ciò che accade sui territori e come le comunità riescono a portare avanti queste tradizioni. E quello che oggi, dando la parola a voi tutti e condividendo le fotografie che abbiamo fatto durante questo viaggio, avete anche visto, ci abbiamo lavorato anche a questo piccolo dono, che è un po' un album del nostro primo percorso di ricerca. Ecco, vedrete come già l'essere insieme qui è in qualche modo quello che la Convenzione chiama una misura di salvaguardia. Cioè il mettersi in rete, l'incontrarsi, conoscersi, è già dare valore e diventare più forti tutti insieme. Quindi l'idea è proprio che da Regione Lombardia si inizia, anche poi, possibilmente e probabilmente su altre regioni, questo percorso di rinforzamento delle esperienze di ciascuno. Raccontandosi, si scambia, ci si apre agli altri, sicuramente se ne ricava una forza, sia di visibilità verso le proprie istituzioni locali, ai diversi livelli, che anche fra di voi, perché l'esperienza di ciascuno, il risolvere determinati problemi, sicuramente rinforzano, diciamo così, le possibilità di trasmissione futura di questo patrimonio. Una cosa anche importante di questa giornata è sempre il tema del dialogo fra comunità. Giuseppe e Paolo, presidente e vicepresidente di Aga, che sono gli iniziatori, fondatori di questo processo, poi vi chiameranno per delle brevi testimonianze, condividendo le immagini che abbiamo scelto per l'album. Qui avete una buona parte dell'equipe presente, che avete conosciuto nei luoghi. Io ho tantissimi ricordi di questo viaggio, che magari poi quando verrete qui potremo anche condividere. Abbiamo Barbara, che è stata l'occhio del gruppo, Barbara Rigon. Abbiamo Gianmarco, che come sapete sta lavorando anche a trattare tutti i documenti, tutte le cose che abbiamo raccolto durante questa prima tranche di ricerca. Ci sono io, che insomma vi ho importunato con le domande, raccogliendo racconti. E poi Aga, che è stata molto presente, i membri del direttivo si sono alternati durante i nostri incontri proprio per materializzare questa volontà di essere veramente comunità in dialogo. Ecco, questo è importante. Abbiamo raccolto sia immagini che racconti, materiali di ricerca e anche dei suoni che dopo la nostra presentazione ascolteremo insieme per aprire proprio questo teatro che stamattina, anche se brevemente, vi porterà a regalarci ancora qualche momento di racconto condiviso. Una cosa che sarebbe anche interessante è quella di proporre, che voi proponeste così nel racconto, anche delle parole chiave che vi piacerebbe vedere inserite anche nella piattaforma. Le parole chiave del vostro gioco e della vostra comunità. Non solo il gioco, perché non abbiamo incontrato solo il gioco, ma tutto quello anche che ci sta intorno. E soprattutto la comunità che lo trasmette. Saluto anche Ludovico che è arrivato, del Pirlì, che ci ha raggiunto. E lascio la parola a Renata Meazza, che è responsabile, senza la cui visione, il cui impegno di molti anni, tutto questo non sarebbe stato possibile. E la sua grande collaboratrice, Agostina Lavagnino, che ci seguono costantemente in questo percorso di salvaguardia dell'immateriale in regione Lombardia e in Italia. E Agostina ha anche il compito, diciamo, di guidarci su tutto l'inserimento dei dati online. Quindi c'è anche questa dimensione che è importante e che sarà importante in futuro. Ci tengo a dire, prima di lasciare la parola a Renata, che questo è veramente l'inizio di un percorso. È vero che abbiamo lavorato e che tutti i progetti hanno una loro consistenza, una fine, un inizio, una rendicontazione. Però è anche vero che noi invece abbiamo veramente una visione di un processo che comincia. Poi altri progetti da questo potranno nascere. Quindi lo vediamo un po' come una nascita. Ecco, questo è il primo momento, è la prima volta che ci incontriamo in un luogo, ci siamo visti sui territori. E vorrei dare anche una certa solennità, diciamo, a questo momento. E poi gli altri presenteranno il libro, che avete tutti in mano, nel quale spero che vi riconoscerete. Grazie. Grazie Valentina di questa presentazione. Io sarò brevissima, soprattutto perché la mia presenza oggi è soprattutto quella di ascoltare, ascoltare il lavoro che è stato fatto, perché noi, come dire, da Regione, lo guardiamo un po' da lontano, purtroppo, perché, come dire, abbiamo promosso questi bandi, questi inviti pubblici già da qualche anno sulla ricerca, salvaguardia, i processi di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, come diceva prima Valentina, che è stata un'innovazione, comunque un'innovazione nel panorama italiano e un'innovazione nell'ambito delle politiche culturali di Regione Lombardia. Il processo non è semplice, perché, come accennava Valentina, passare da una concezione del patrimonio, che è molto statica, è una concezione del patrimonio sui beni, sui monumenti, su ciò che, come dire, è riconosciuto anche come valore, diciamo, anche dal punto di vista economico, perché sono i beni architettonici, i beni storici del patrimonio italiano, passare a una concezione del patrimonio immateriale, quindi di quelli che sono i saperi, delle singole persone anche, delle singole persone che sono persone comuni, sono persone che fanno altri lavori, altri mestieri, ma che riconoscere, diciamo, queste persone che poi diventano anche comunità, come dire, un valore culturale a ciò che fanno, a ciò che sanno e a ciò che possono trasmettere, non è un processo semplice, è un processo che io dico spesso siamo solo agli inizi di questa fase, come dire, potete immaginarvi come quando sono nati i musei, e i luoghi di conservazione di opere d'arte, cioè non si sapeva bene che cosa sarebbe successo. Noi siamo in questa fase, una fase d'inizio, la convenzione dell'UNESCO ci ha dato il là, che è una convenzione del 2003, quindi, mi dire, recentissima. Nel 2007 Regione Lombardia ha promosso una legge per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e, diciamo, da questa data, questa data ci ha concesso di cominciare a lavorare, cominciare a interrogarci anche, a cercare di capire sempre meglio di che cosa si stava parlando quando si parla, appunto, di persone, di singole, di comunità, di saperi individuali, di saperi che, appunto, anche nel gioco vediamo rappresentati in questa bellissima immagine, no? Sono simboli, sono, come dire, capacità manuali, sono anche la capacità di costruire strumenti, quindi non è solo l'attività del gioco, ma, somma, tanti aspetti, no? Che a volte non è così facile far comprendere. E questo è un po' il nostro compito, quello invece di cercare di far comprendere non solo agli addetti ai lavori, ma proprio alle comunità, perché sono loro i protagonisti, no? In questo senso c'è un riconoscimento forte del protagonismo delle realtà che sono diffuse sul territorio. Su questo Regione Lombaria si è impegnata, continua ad impegnarsi, per quel che ci è dato di sapere, anche da parte dei nostri politici, che comunque portano i loro saluti ai presenti. e quindi, come dire, anche quest'anno ci sarà un altro invito pubblico per questi, diciamo, lavori di ricerca e anche di salvaguardia, no? Partecipati. Quindi, come diceva Valentina, è un percorso che si sta facendo, che vorremmo condividere con tutti voi. Devo dire che in questo ambito del gioco, tra virgolette, noi... Buongiorno. Concludo e poi le passo la parola. Ci troviamo in un ambito che è molto positivo, molto fortunato, anche perché c'è un grossissimo lavoro alle spalle. Come ricorda Valentina, c'è l'associazione Aga, che è un'associazione che io trovo formidabile, perché comunque hanno fatto un lavoro pazzesco da questo punto di vista, no? Prima della legge sul patrimonio immateriale, prima che, come dire, la politica, le istituzioni, no? Cominciassero ad occuparsi di questo. E quindi, oggi, come dire, questo progetto è un progetto che io reputo di grande successo, no? Un progetto che ha dato risultati straordinari e che quindi io mi auguro che possa continuare anche nel futuro, anche con il nostro supporto che comunque c'è e con il supporto della nostra istituzione, Regione Lombardia, che ci auguriamo che continui ad esserci. Adesso io do la parola al sindaco, assessore, all'assessore, prego. Grazie mille, comunque, a tutti, di questo invito. Buongiorno a tutti, scusatemi per la voce, ma fa parte dei malani della stagione questa. Mi chiamo Francesca Cerini, sono assessore allo sport e alla cultura per il comune di Desenzano del Garda e ovviamente per me è un piacere potervi ospitare qui, poter ospitare Regione Lombardia, tutte le comunità, tutte le associazioni che hanno partecipato a questo progetto. Penso che sia una cosa ammirevole, assolutamente, poter parlare di giochi antichi come un valore per la nostra cultura e per la nostra tradizione, perché è proprio nei giochi antichi probabilmente che si nascondono quelle che sono le nostre radici, le nostre tradizioni, la nostra memoria e la nostra storia. E in periodo anche di feste natalizie, come ormai sono prossime, parlare anche di giochi antichi vuol dire parlare di condivisione, di socialità e di convivialità, di cui probabilmente abbiamo anche bisogno in questo periodo. Che Regione Lombardia sia sensibile a questo tema e abbia deciso quindi di inserire i giochi antichi come un patrimonio che fa parte ormai del patrimonio immateriale della nostra Regione, penso sia assolutamente un motivo di vanto e anche di attenzione proprio nei confronti della nostra cultura. Ovviamente i miei ringraziamenti vanno anche ad AGA che con tutta la sua ricerca, passione e con l'aiuto ovviamente di tutte le comunità e le associazioni è riuscita a portare avanti questo progetto e a far sì che diventasse una realtà per cui esiste il registro adesso del patrimonio. A livello di Desenzano ovviamente sono contenta che ci siano le bisse a essere presente in questo progetto che sono un elemento importante non solo per Desenzano ma per tutto il Lago di Garda. mi auguro che questo sia solo l'inizio di un percorso ben più ampio che ci possa portare non solo a salvaguardare i giochi che abbiamo trovato adesso ma a scoprire giochi che magari possono essere giochi o tradizioni che possono essere finiti nel dimenticatoio e che attraverso questi progetti possono avere nuova vita ed essere salvaguardati e tutelati per il futuro non solo nostro ma anche delle generazioni a venire. qui mi taccio e lascio che siano persone più competenti di me in questo caso a parlare e colgo l'occasione per fare auguri a tutti voi e alle vostre famiglie di buone feste. Grazie e mi scuso per il ritardo. Io darei la parola ad Agostina che collabora nell'ufficio nel nostro ufficio della Regione Lombardia e devo anche dire che dare questo annuncio che mi sostituirà dal primo gennaio perché io vado in pensione. Adesso è un po' difficile prendere la parola devo essere sincera e quindi apro con i ringraziamenti a Renata per tutto il lavoro fatto insieme in questi anni ma soprattutto alla lungimiranza che ha avuto all'interno di un'istituzione che potete immaginare non è facile guidare politiche culturali all'interno di un'istituzione come Regione Lombardia. Renata ha sempre avuto la lungimiranza e grazie a lei se c'è una legge all'interno di un'istituzione che ci garantisce quindi una continuità anche dal punto di vista di risorse che consentono poi attraverso i bandi annuali e grazie al cielo avremo un altro bando il prossimo anno quindi ci sarà la possibilità se voi vorrete ovviamente condividere partecipare dunque e dare continuità a un progetto così importante come quello che AGA ha coordinato questo perché secondo me sarà banale ma sono tanti progetti all'interno di un grande progetto quindi la coralità di questo progetto è molto importante l'ha detto Valentina l'ha detto Renata è una coralità che arriva dalla partecipazione delle comunità ludiche siete tanti mi interessa molto la metodologia che è stata applicata per un progetto di questo tipo e mi interessa molto vedere poi i risultati all'interno del registro perché chiaramente un cambio di metodologia sicuramente produrrà anche risultati diversi nel vostro racconto corale ma singolo per comunità ludica all'interno dell'inventario noi come ha detto Valentina è la prima volta che affrontiamo questo tema abbiamo sempre cercato in casi anche più fortunati di dare voce e lasciare che le comunità partecipassero al registro direttamente con la nostra mediazione quindi fossero loro a raccontarsi e questo mi sembra l'esempio importante che deve dare e darà sicuramente risultati diversi rispetto a quelli che oggi finora abbiamo in qualche modo affrontato e conosciuto io mi taccio e credo sia il momento di dare la parola invece alle comunità di pratica allora per come vedete siamo tutti un po' commossi da questo passaggio anche storico allora in onore di questa commozione vorrei leggervi la definizione perché diciamo che questa definizione a noi ci ha messo in viaggio molti anni fa la definizione di patrimonio culturale immateriale e mi piace iniziare diciamo dando la voce ad AGA e alle comunità leggendola e questo è l'articolo 2 della convenzione che potete trovare naturalmente online sul sito dell'UNESCO patrimonio culturale immateriale significa per patrimonio culturale immateriale si intendono le pratiche le rappresentazioni le espressioni le conoscenze e le capacità così come gli strumenti gli oggetti gli artefatti e gli spazi culturali ad essi associati che le comunità i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale quindi vedete che sono le comunità e i gruppi che definiscono e riconoscono questo patrimonio culturale immateriale trasmesso di generazione in generazione è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente la loro interazione con la natura e con la storia e provvede loro un senso di identità e di continuità promuovendo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana adesso lascio la parola al presidente di AGA Paolo che molti di voi conoscono conoscono bene e apriamo diciamo la mattinata che si svolgerà un po' in questo modo abbiamo pensato di condividere le immagini che poi ritrovate anche nell'album quindi ogni comunità verrà chiamata e sullo sfondo passeranno queste fotografie e siete liberi di fare una vostra testimonianza sia su quello che avete vissuto sul terreno che anche quello che vi aspettate un po' da questo progetto quindi ecco da un lato quello che avete vissuto quello che per voi è stato anche partecipare a questa impresa che stiamo conducendo quindi siamo nel pieno del lavoro e anche quello che vi aspettate da noi da AGA dalla regione insomma come possiamo meglio fare per proseguire insieme questo percorso sì grazie vi risaluto saluto chi non era presente prima ed è arrivato per vari motivi con qualche minuto di ritardo so che avete avuto problemi con la bis che era leggermente imbizzarrita avete dovuto legarla perché altrimenti sì quindi saluto le bisse saluto Lodovico che è arrivato dalla Bergamasca trascinandosi il Pirli appresso se non sbaglio però sì allora noi faremo un breve intervento a più voci perché l'associazione lavora da quasi vent'anni su più piani per questo motivo pensavamo in maniera molto molto breve ovviamente perché poi voi siete i protagonisti principali della giornata e quindi daremo la parola a voi però per capire un po' il lavoro il lavoro che in questi 18 anni l'associazione ha fatto e che ci ha permesso di arrivare anche in contatto con voi in questo momento faremo un intervento a più voci e quindi io inviterei il vice presidente Giuseppe Giacon state qui per una breve presentazione dell'associazione poi ci sarà Nicola che spiegherà il viaggio termine che piace molto a Valentina con cui abbiamo corredato da qualche anno questa parte il lavoro dell'associazione e poi io finirò finirò questo intervento a tre voci andando a spiegare il lavoro della comunità dei giocatori dello Scianco e la maniera in cui si è mossa sul territorio italiano e anche europeo in questi anni quindi ho la parola a Giuseppe buongiorno a tutte e a tutti come tanti di voi sanno l'associazione è nata all'inizio degli anni 2000 è nata sul gioco che Paolo ha anticipato che è lo Scianco e quindi siamo nati proprio da un'idea di gioco di recupero di gioco e quindi abbiamo una storia comune ed è il motivo per cui tutto il nostro lavoro in questi oltre 15 anni è stato sul pensare di mettere al centro proprio del gioco il giocatore e da lì siamo partiti è stato tutto molto come dire semplice naturale mettendo al centro il giocatore per forza di cose si mette al centro di un lavoro che all'inizio non avremmo mai pensato di questa portata di questa intensità proprio la comunità e ogni volta che abbiamo incontrato comunità diciamo che l'energia è aumentata e ci ha fatto arrivare fino ai giorni nostri anche attraverso delle esperienze molto forti come quella del Festival Toccatì che come si diceva prima è proprio l'idea di portare all'interno di una città non i giochi ma i giocatori l'elemento fondamentale molto spesso si parla di gioco di regole di gioco di storia del gioco ma pochissimo si parla di quello che è l'elemento vitale del gioco che sono i giocatori l'altro elemento che da subito abbiamo avuto ben chiaro era un racconto delle comunità nella dimensione adulta perché il gioco è solo appannaggio dell'infanzia dei bambini e quindi tutto questo viaggio alla fine è stato un viaggio di grande formazione per noi non ponendoci mai una categoria precostituita cioè il gioco tradizionale solo o il gioco antico o lo sport tradizionale oggi la vostra presenza testimonia che ci sono realtà famiglie di gioco comunità assolutamente con esperienze diverse alcune molto legate al tema sportivo quindi grandi prestazioni grande fatica anche dal punto di vista voglio dire preparatorio e altre in maniera molto più spontanea e questa è la ricchezza che ci accompagna da 15 anni a questa parte e che ci ha fatto incontrare figure come Valentina Zingari che da 4 anni ci accompagna anche a riflettere in maniera insomma scientifica su questa cosa e poi un incontro con la regione Lombardia che in realtà con Renata Meazza nasce molti molti anni prima dell'incontro ufficiale con la regione perché è venuta a trovarci al festival ancora parlo quasi insomma parecchi anni fa e e quindi poi da cosa nasce cosa e siamo siamo giunti anche a questo a questo incontro odierno che è solo un inizio quindi secondo me parliamo di viaggio e ho saputo adesso dal mio presidente che io dovevo fare la presentazione ma che il mio socio Nicola doveva anche venire a raccontare il viaggio lascio la parola a lui grazie mi veniva in mente adesso ascoltate queste parole una definizione di città fatta da Franco Lacecla un urbanista che diceva non c'è niente di più ricco di una città in effetti è vero in città c'è una tale densità di attività che la definizione ci sta tutta però altrettanto ricco proprio perché tocca le città i paesi è il viaggio il viaggio mi hanno detto di usare molto questa questa parola il viaggio va a cercare proprio tutte queste queste ricchezze e mai come abbiamo imparato a fare noi già anni fa con la nostra prima esperienza di quello che è stato definito con un termine un po' demodema che ci sta tutto c'è un reportage è un reportage che c'è un po' questo sapore dei viaggi di ricerca del fermarsi dell'andare a gustare le nuove conoscenze le esperienze le cose e ancora dal punto di vista letterario mi fa venire in mente non so Bruce Chartwin con tutte le sue teorie sul viaggio o restando qui da noi Pierpaolo Pasolini che fa il giro d'Italia sulla sabbia dalla Liguria a tutte le spiagge d'Italia fino a tornare scusate fino a tornare nel suo paese cioè il Friuli e anche lì racconta racconta persone racconta ci sono incontri e quello che ne viene fuori è forse una cosa molto bella che racconta il nostro paese e allora stupirsi durante il viaggio ormai per noi abbiamo imparato a non stupirsi più insomma della quantità di ricchezza e di rapporti umani che volta per volta veniamo a conoscenza di persone stranissime di cui poi ci raccontiamo alla sera quando torniamo da questi viaggi e non solo adesso raccontando io parto parto sempre da una di un'immagine fortissima di uno dei primi viaggi che ho fatto io in Calabria al termine dell'Italia penisola sulla Spromonte dietro l'angolo di una reggio Calabria caotica un deserto di di abbandono e di problematiche dove però esisteva questa comunità che ancora forte ancora legatissima al proprio territorio portava avanti le cose belle di questo territorio strappandole ad una situazione veramente disperata fino ad arrivare agli ultimi viaggi che abbiamo fatto assieme in questa esperienza in Lombardia a cui ho fatto un paio di uscite andando a ritrovare gli amici di Mede in un'esplosione di colori in mezzo a questa pianura con una leggera nebbiolina oppure gli amici nuovi della Balacrela in questa valle affascinantissima molto molto contraria alla per esempio alla Calabria di cui vi ho parlato poco fa ma con un calore che definire meridionale sarebbe riduttivo perché questi ragazzi sono veramente esplosivi quindi e quindi ecco la cosa è anche a un certo punto la cosa forse si sente un po' si ammetteva un po' commovente qui però in effetti è tantissima la ricchezza e le cose che abbiamo incontrato e quindi noi vi ringraziamo per averci dato questa opportunità e non ho mai nominato la parola gioco forse questa brevissima esposizione perché ormai lo sappiamo è il tema dominante grazie visto che si parla di viaggio e di viaggiatori e d'occidente e d'oriente e io darei direi a Gianmarco che ci ha aiutato in questo in questo ultimo percorso se vuole dire due parole buongiorno a tutti allora prima di tutto vorrei ringraziare Sofia Barbara e Beatrice perché una grandissima parte del progetto è stata realizzata grazie al loro aiuto e al fatto che mi abbiano supportato e supportato entrambe le cose e che abbiamo ecco e dopodiché volevo dire riguardo il tema del viaggio che si è affrontato per me è stata una prima esperienza con l'associazione ho avuto la fortuna di far parte subito di un progetto bellissimo che mi ha lasciato tanto perché appunto a 25 anni non ho avuto la fortuna di scoprire tutta una serie di comunità e di persone soprattutto formate appunto da persone giocatori ma soprattutto persone che mi hanno lasciato tanto e quindi di questo sono grato all'associazione giochi antichi ma anche a tutte insomma a tutti voi qui presenti e niente adesso con piacere ascolterò le vostre presentazioni anche qui nonostante le abbia già ascoltate a tavola con voi sicuramente è stato più piacevole e quindi ecco ringrazio tutti grazie Gianmarco adesso che hai spiegato e hai detto quello che hai detto vuoi far vedere il vero motivo per cui hai fatto questo viaggio fai vedere i calzini allora diceva Giuseppe tutto nasce per quanto riguarda la nostra associazione intorno alla riscoperta di un gioco che in gran parte della provincia veronese chiamiamo Cianco forse qualcuno di voi lo conosce come Ciancol come si dice qui nella in Lombardia cioè nel Bresciano e nel Mantovano ma e da subito ci siamo accorti che poteva essere un come dire un grimaldello potentissimo per arrivare su più livelli a confrontarsi tra di noi abbiamo scoperto comunità di gioco da subito e la voglia di entrare in relazione è stata immediata tra le prime abbiamo qui presenti i giocatori di Ciaramela di Mede con cui ci siamo subito confrontati ma questo questo per far capire la modalità che è quella anche poi che è stata messa in campo nel festival Tocca T è quello di allargare collaborazioni e relazioni il più possibile e di crescere e di far crescere insieme non solamente l'associazione ma tutta la rete che si è formata in questo in questo periodo per quanto riguarda questa modalità di gioco possiamo dire che noi abbiamo una rete a livello italiano ma abbiamo una rete a livello internazionale che si confronta tutti gli anni non solamente all'interno del festival Tocca T dove abbiamo comunità che arrivano dalla Spagna dalla Francia dalla Romania dall'Ungheria Croazia Slovenia e queste sono ormai realtà consolidate con cui ci confrontiamo tutti gli anni ma probabilmente e lo dico adesso approfitto dell'assemblea per dirlo agli amici di Mede probabilmente l'anno prossimo inizierà un progetto europeo riusciremo vedremo se sarà accettato ma un progetto europeo che vede il coinvolgimento oltre che della nostra associazione delle realtà italiane e delle realtà europee che ho nominato quindi questo per dire dove come si può agire sul territorio e come possiamo sfruttare anche la comunità dell'Europa e la comunità europea per far crescere il nostro movimento il nostro movimento che nasce non come una federazione io so che qui all'interno ci sono realtà diverse ci sono realtà che fanno capo a federazioni sportive noi abbiamo scelto fin da subito di non di non percorrere questa linea ma di di vedere di formare una rete a livello nazionale facciamo parte di un'associazione europea che segue questa linea non è un'associazione verticistica è a sua volta una rete di reti mi è stato detto di non usare questo mi è sfuggito mi è sfuggito mi è sfuggito va bene una rete di reti ed è quello ed è quello che noi perseguiamo sul territorio italiano quindi mi fa estremamente piacere che questo possa essere l'inizio di una di una relazione proficua futura mi fa piacere che la regione Lombardia sia disposta a proseguire con con questo con questo progetto e quindi direi di dare la parola alle comunità grazie grazie